Anche Confesercenti Sardegna si mobilita per far sentire la voce sempre più arrabbiata e spaventata per il futuro degli esercenti dell'isola, ormai in ginocchio dopo più di un anno di restrizioni e chiusure a causa dell'emergenza Covid. E a questo proposito domani 7 aprile partirà in tutta Italia una manifestazione di protesta a distanza, fatta di email e documenti di sensibilizzazione dal titolo Portiamo le imprese fuori dalla pandemia. Obiettivo coinvolgere quanti più imprenditori possibile in un'azione che porti le istituzioni nazionali e regionali a condividere le proposte studiate da Confesercenti. A partire dalla presenza sui quotidiani sardi e nazionali di domani del manifesto Confesercenti con tutte le ragioni della protesta e le rivendicazioni. Sempre domani le caselle email di deputati e senatori riceveranno un invito ad agire accogliendo le richieste dell'associazione che vuole in primis ridare agli esercenti italiani il diritto di ripartire con il proprio lavoro e non di legare la propria sopravvivenza a ristori inadeguati e che arrivano a singhiozzo. Inoltre da domani partirà la raccolta firme online a supporto e sostegno delle proposte Confesercenti. La prima richiesta alle istituzioni di Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna, è la messa in campo di un decreto imprese. Gli esercenti sardi, già duramente colpiti negli ultimi anni della crisi, ora si ritrovano a dover fare una scelta terribile, chiudere definitivamente la propria attività, afferma Bolognese. Servono sostegni adeguati, credito immediato e dilazioni nel lungo periodo del credito già concesso, ma soprattutto serve un piano per la ripartenza. Vogliamo riaprire subito perché siamo in grado di farlo in totale sicurezza.